La storia delle stelle marine riconoscenti, storia ispiratrice sull'atteggiamento. Una mattina, un uomo anziano stava camminando lungo la spiaggia quando notò un ragazzino che raccoglieva qualcosa dalla sabbia e lo gettava in mare. Avvicinandosi, l'uomo si rese conto che il bambino stava gettando tra le onde le stelle marine arenate che si erano arenate sulla riva. Avvicinandosi al bambino, l'uomo gli chiese cosa stesse facendo. Le stelle marine moriranno se saranno ancora sulla riva quando sorgerà il sole, rispose il bambino. Perplesso, il vecchio disse, ma è inutile. Ci sono innumerevoli chilometri di spiaggia e migliaia di stelle marine. Non importa quante ne riporti in acqua, non puoi fare la differenza. Senza farsi intimorire, il ragazzo sì che no, raccolse un'altra stella marina e la gettò in mare. Per questa è importante, disse. Morale della storia. A prescindere dalle probabilità di successo o dalla portata della sfida, le vostre azioni possono fare la differenza. È meglio accendere una candela che maledire il buio. Ogni piccola cosa conta. Fare qualcosa per apportare un cambiamento positivo è sempre meglio di niente. Grazie. Grazie. Grazie.